musica ok salve a tutti ragazzi benvenuti a stack tv io sono anna se oggi siamo qui con l'estrazione del contest questa qua sarà l'estazione abbiamo deciso di fare una estazione unica per entrambi gli account giusto o ne facciamo due staccate due vabbè due staccate scherzavo ho fatto un fail oggi siamo con la prima estazione è Pasqua tra l'altro quindi buona Pasqua giusto? esatto buona Pasqua a tutti buona Pasqua a tutti anche i non credenti perchè comunque è una festività e quindi allora intanto vi faccio vedere qua il video del contest che ha raggiunto 34 like alcuni non hanno messo like ma vabbè ormai ne abbiamo messi comunque ci sono vedete un bel po' di partecipanti grazie ovviamente a tutti soprattutto a quelli che si sono iscritti e niente io direi di andare su random.org che è appunto un sito dove possiamo scegliere i partecipanti i partecipanti c'è il un numero mi esce un numero a caso mettiamo minimo 1 massimo partito dei squadati sono 38 metto 40 così può uscire anche più gente generiamo sei pronto? e voilà il numero 36 ok è uscito il numero 36 andiamo a vedere sul documento blocco note andiamo a vedere come vedete questi sono tutti i partecipanti numero 36 il risotto con le erbette ha vinto il risotto con le erbette allora scrivici avrai 3 giorni di tempo appunto se in questi 3 giorni non ci scriverai comunque devi trovarci sul discord esatto vieni sul discord se non hai discord scrivici nei commenti e dici te come contattarti e niente appunto questo qua è stata la prima estazione la seconda la vedete la prossima volta come vedete guarda faccio una roba intelligente tolgo già il risotto con le erbette così almeno non dite poi cose strane e niente ragazzi grazie a tutti per aver partecipato al contest il 23 ci sarà il secondo arrivederci arrivederci grazie a tutti